Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio della carriera con l'Arzegnano Valchiampo. Siamo reduci da un episodio dolce-amaro. Amaro perché è partito con quella che è la più brutta sconfitta della nostra gestione. Dolce perché si è conclusa con due vittorie di livello con Trento e soprattutto con la capolista Mantova. Vittorie che ci hanno permesso di portarci momentaneamente a più 10 sulla zona play-out e quindi di poter iniziare a pensare e di guardare sopra di noi anziché sotto di noi. Mancano 8 partite, il campionato è ancora lungi dall'essere terminato, però noi ci siamo. Abbiamo battuto un colpo molto importante. Questa sarà la partita della verità perché ci troveremo ad affrontare Pordenone, Juventus 23, Vicenza e Pro Sesto in un quartetto di partite che per la maggior parte vede squadre che ci stanno al di sopra in classifica. La Juventus 23 la considero comunque una squadra molto tosta da affrontare perché non si sa mai che giocatori scendano dalla prima squadra. Potremmo trovarci un Caio Giorgia, potremmo trovarci un Sule, un Barrenecea, giocatori di un'altra categoria. E poi, insomma, il derby con Vicenza è sempre una partita veramente importante, una partita da affrontare con la massima concentrazione per poi chiudere con Pro Sesto che in caso di vittoria potrebbe dare il colpo definitivo per la salvezza. Siamo pronti ad affrontare quindi queste partite, andiamo a prepararci per la gara contro il Pordenone. È il giorno della partita, è il giorno di Arzignano-Pordenone, decima contro quarta forza del campionato. Partita importante, impegnativa. Non abbiamo ancora recuperato purtroppo Lazarevic, ma siamo quasi arrivati al momento. Probabilmente riusciremo forse a fargli giocare qualche minuto entro la fine di questo episodio. E andiamo a prepararci ad affrontare questa gara veramente impegnativa. La gira a Zammarini sul limite, verso Burskagin. Dentro per Hilling, anticipato da Molnar. Nannini ancora di testa, ma la palla rimane dentro per Edera. Sfiora il palo. Zammarini allo scarico per Ajeti. Ajeti a lancio. Bombaggi. Anticipato di testa, no. Bombaggi riesce a scaricarla su Edera, che adesso è solo. Edera deve girarla sulla sinistra per Benedetti. Benedetti dentro Hilling. Anticipato, ancora Deli. Fermato da Alfredson, ancora palla per il Pordenone. Benedetti, saio. Calcio d'angolo. Fantacci, punizione larga. La mette in mezzo verso Alfredson. Anticipato, attenzione. La palla rimane lì sulla linea, poi in qualche modo spazzata dalla difesa del Pordenone. Ancora buona per Fantacci. Anticipato da Burrai. Benedetti si allarga da solo. Può solo scaricarla. Arriva fino in fondo. Lo fa adesso su Deli. Deli ancora, Benedetti. Ci sono tre giocatori di Pordenone in area. La palla è per Edera. Anticipato, Bombaggi. C'è il vantaggio del Pordenone con Bombaggi. Un rimpallo dentro l'area piccola. Alla fine ha la vinta il giocatore del Pordenone. Si fa rubare palla da Benedetti. Ancora Deli. Burrai. Riparte subito il Pordenone per cercare l'immediato raddoppio. Hilling. Hilling brucia la difesa. È da solo. Può metterla in mezzo. Edera, il gol. 2-0 Pordenone nel giro di un minuto. Direttamente dal calcio di inizio dell'Arzegnano. Aglietti al lancio su Palombi. Va a vuoto Milillo. La palla è per Bombaggi che va a fare il 3-0. Candellone, Candellone. Tu per tu con saio. Il tiro. E c'è il 3-0 del Pordenone. Chiude la partita definitivamente la squadra friulana. Si chiude qui la gara. L'Arzegnano perde 3-0 in casa contro il Pordenone. Squadra che ha retto molto bene fino a tre quarti della partita. Poi negli ultimi 25-30 minuti è completamente crollata sotto i colpi di una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico. Non si può rimproverare niente alla squadra che ha giocato bene per quello che ha potuto. Il Pordenone ha fatto il suo. E nel momento in cui poi ha segnato ci siamo sciolti. Perdiamo bordo. Grossa perdita per l'Arzegnano. Perdiamo bordo per il prossimo mese. Si è fatto male. È un piede all'allenamento. Quindi non è un infortunio muscolare. È un altro infortunio sfortunato. Speriamo di riuscire a recuperare prima della fine della stagione. Diventa un periodo complicato adesso. Siamo pronti ad affrontare quindi la gara in trasferta contro la Juventus 23. Partita da dentro o fuori per la Juventus 23. Contro l'Arzegnano ha una delle ultime chiamate per poter accedere alla corsa per i playoff. Mentre l'Arzegnano tenta con questa partita di portarsi a 44 punti. Scavalcando momentaneamente Lecco e Provercelli. E cercando quindi di mettere una pietra sull'accesso ai playoff per questa stagione. E azzalontanarsi definitivamente dalla lotta salvezza. Sule verso Yattaren. Yattaren a gire i difensori. La scarica Biklien. Lancio verso Caio Giorge. Anticipato da Ascii però la palla ancora per la Juventus 23. Filtrante verso Caio Giorge. Il tiro se l'è divorata Caio Giorge. Calcio di punizione per la Juventus 23. Va Sule col mancino. Potrebbe andare direttamente in porta. Sfiora la traversa. Sekulov. Scarica Antenda. Dentro per Sekulov. Si contende il pallone con Gemignani. Gemignani scivola. Allora Sekulov è libero di entrare in aria. Caio Giorge. Il colpo di testa. Sfiora il palo. Crespi a rinvio. Lungo dove però non c'è nessuno. Uscita spericolata di Saio che stoppa di petto. E imposta su Ascii. Gira su Tremolada. Tremolada prova l'imbucata per Fantacci. Che è tutto libero a destra. Lo stop. Il tiro. 1-0 Arzegnano. Gran gol di Tommaso Fantacci. Stop e tiro impeccabili. Che fa la sponda su Sekulov. Sempre libero su quella fascia. Sekulov affrontato adesso da Ascii. Il cross in mezzo verso Sule. Anticipato da Nannini. La palla però è ancora di Riccio. Che riprova a metterla in mezzo. Caio Giorge di testa. Sfiora la traversa. Rimessa dal fondo. Si è fatto male Tremolada. Esce per infortunio. Non sappiamo cosa si è fatto. Però il fortuna è abbastanza grave. E quindi anticipatamente, ma pronto per farlo, torna in campo Dejan Lazarevic. Dopo molti mesi di infortunio. Sule. Bellissimo lancio per Jokolano. Dentro per Turco. Tutto solo. Pareggio della Juve Under 23 con Nicolò Turco. Prima rete stagionale per il giovane attaccante. Si conclude la partita. Finisce 1-1 tra Juve Under 23 e Arzignano. Gara abbastanza equilibrata. Peccato per il pareggio finale della Juve con Turco. Però il pareggio tutto sommato ci stava. La prestazione è stata ottima da parte di entrambe le squadre. Probabilmente abbiamo attaccato meno di quanto avremmo potuto non bene l'ingresso di Pio Vaccari da subentrato per Grandolfo. Inizia anche per noi il mercato degli svincolati. Il primo ad essere ufficializzato sarà Riccardo Daga, portiere del Messina con un passato tra Viterbese e la Primavera del Cagliari. Daga sarà probabilmente il nostro titolare nella prossima stagione. Lo paghiamo molto poco in termini di ingaggio e contando che entrambi i nostri portieri stanno per partire probabilmente cercheremo anche un altro secondo portiere sempre a costo zero. Però intanto diamo il benvenuto all'Arzegnano a Riccardo Daga. Siamo arrivati a quella che è la partita più importante dell'episodio, il derby in casa del Vicenza. Derby sentitissimo, all'andata ricordiamo tutti com'è finito, è stata una partita incredibile, uno dei momenti più alti di questa stagione. Cerchiamo di ricordarci quelle sensazioni e di dare il massimo per riviverle anche questa volta. Almici sulla fascia, la scarica a Cappelletti, ancora Almici sulla destra. Dentro per Cavion, fermato da Barba, può partire il contropiede dell'Arzegnano con Grandolfo che la dà indietro a Molnar. Alfredson, a Casini, ancora Barba. Barba potrebbe provare l'imbucato, lo fa adesso verso Fantacci, Fantacci lo stop e il tiro! 1-0 Arzegnano, il vantaggio col gol di Tommaso Fantacci. Barba, il lancio lungo per Grandolfo, Grandolfo lo stop, si fa recuperare però dal difensore, la palla è ancora sua Grandolfo. Forse troppo largo il tiro, paraconfente, grandissima azione di Grandolfo. Gemignani sulla fascia, vede Grandolfo libero, gli effettua un lancio perfetto sulla destra. Grandolfo, di nuovo Gemignani, entra in area gli attaccanti. Di nuovo palla su Grandolfo, Lazarevic, 2-0, rientra l'infortunio, la prima da titolare, 1-0, gol di Lazarevic. 2-0 chiaramente, 2-0. Rinvio dal fondo da parte di Confente. Cerca dal monte, anticipato da Molnar, allora la palla di Barba. Alfredson lancia lunga per Grandolfo, che supera la difesa, Grandolfo a tu per tu con Confente. 3-0, ammutoliti gli 8.000 dello stadio del Vicenza, ammutoliti, 3-0. Ronaldo dalla bandierina, cerca Bellic, il colpo di testa, ha segnato Bellic di testa, accorce il Vicenza 1-3. Begic sulla destra, il cross verso Rolfini, lascia passare della morte. Rolfini, immediato 1-2 del Vicenza, che si riporta a meno 1 dell'Arzegnano, partita apertissima. Nannini, rimessa per Alfredson, la ridà Nannini, si gioca l'1-2, il due giocatore dell'Arzegnano. Antoniazzi, anticipato da Della Morte, però attenzione al Vicenza. Rolfini ancora per Della Morte, lo stop, il tiro, sfiora il palo. Fantacci la recupera, sul rimpallo. Fantacci, avanza, il lancio per Grandolfo, forse è in fuorigioco Grandolfo, la bandierina per ora non si alza. Un po' largo, supera il difensore, Grandolfo, lo stop, il tiro, gol. 4-2 Arzegnano, 4-2, era tutta buona la posizione, Grandolfo. Nannini si ferma alla bandierina. Ladace, sterra, appena entrato, Lazarevic, stop e passaggio in mezzo. Il tiro, parata di Confente, calcio d'angolo. Triplice fischio dell'arbitro, andiamo ad espugnare anche il Menti. 4-2, vince l'Arzegnano. Doppietta di Grandolfo, Fantacci, il ritorno al gol di Lazarevic dopo l'infortunio. Ci fa molta paura il Vicenza, con l'1-2 in giro di 5 minuti, Bellic della Morte. Ma poi Grandolfo chiude la partita, festa a quest'oggi ad Arzegnano, grande festa. E vittoria che ci permette di consolidare anche il decimo posto in zona playoff, a più 3 dall'Ecco, a più 7 dalla Juventus 23. Bisogna cercare solo di ricacciare indietro il Lecco nelle prossime 5 partite per poterci confermare nei playoff. Ed è confermato l'addio a fine stagione di Simon Fida, firma per il Zaglebie, squadra polacca di prima divisione. Quindi rientro in patria per Fida, che adesso andiamo a salutare, ufficiale la sua cessione. Fida, che numericamente sarà sostituito in rosa dall'arrivo a parametro 0 di Nicolò Buso dall'Ecco. Buso attaccante 23enne, giocatore di chiara qualità, potrebbe probabilmente fare il vice Grandolfo e giocarsi il posto da titolare. Giocatore con un passato nel Giorgione, Cesena. È passato da Roma, dove non ha lasciato il segno, mai neanche un'esperienza da titolare. Riparte da Sestri Levante, qualche anno fa, dove dalla Serie D riesce a conquistarsi a suon di gol la Serie C. E da due anni a Lecco adesso viene per cercare di migliorare il suo score e di portare in alto la bandiera dell'Arzignano. E oltre a Buso andiamo a confermare anche l'acquisto del secondo portiere per la prossima stagione. Si tratta di Francesco Marone. Marone con un passato all'Avellino, Salernitana. Gioca nell'ultima stagione alla San Benedettese in Serie D. Ha 24 anni, non è ancora vecchio, quindi potrebbe ancora migliorare. Giocatore su cui tenere gli occhi. Potrebbe giocarsi il posto da titolare l'anno prossimo. Per ora parte come dodicesimo uomo, però siamo coperti finalmente tra i pali. Siamo adesso arrivati a quello che è l'ultimo match di questo episodio. Arzignano-Prosesto. Prosesto che si trova sotto di noi. È sulla carta la partita più facile di questo episodio. L'esperienza ci ha insegnato che la partita più facile dell'episodio di solito significa clamorosa sconfitta. Quindi cerchiamo di dare un taglio a questo andamento. Di continuare sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria del derby. E di cercare di portarci stabilmente in zona playoff. Scavalcando magari la Provercelli. Gemignani. Il calcio di punizione a cercare Grandolfo è troppo lungo. Ci arriva prima il difensore che anticipa anche il portiere. Attenzione, grave incompressione, però se la divora Grandolfo. Se la è divorata. Gira a destra per Lunghi. Prova a riattaccare l'Arzignano sulla fascia. Lunghi si ferma. La dà Casini. Casini su Alfredson. Il lancio di Alfredson è a cercare Grandolfo. E mette in mezzo il gol di Francesco Grandolfo. Assist di Gemignani. 1-0 vantaggio Arzignano. Sayo al rinvio. A cercare Parigi. Che stoppa la palla. Supera il difensore. Parigi col portiere. Tentativo di esterno. Facile per Del Frate. È finita la partita. L'Arzignano soffre ma vince 1-0 in casa sotto questo inedito freddo e neve di marzo. Ci portiamo a casa la partita con il gol del solito Grandolfo. 1-0. E a 4 partite dal termine. A più 13 sulla zona play out. L'Arzignano è ufficialmente salvo. L'Arzignano ufficialmente salvo. Arriva quindi a quello che era l'obiettivo stagionale. Dopo la salvezza quindi l'obiettivo stagionale per queste ultime 4 partite. È e rimane quella di cercare di entrare a far parte delle squadre dei play off di serie C. Ci mancano 4 partite. In questo momento siamo a più 6 dall'Ecco che però ha una partita in meno. E cercheremo in queste ultime 4 partite che saranno contro Novara, Verona, Pergolettese e Triestina di portare a casa abbastanza punti per poterci confermare come sorpresa di questo campionato. Io vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi saluto e vi auguro una buona giornata o una buona serata. Grazie a tutti.